Arrabio, cos'è si dice! Arrabio, ottobio tutto quello che hai detto! Ma che ne è questo che c'era gente arrabia? Dio non si arrabia, se ho Gesù Gioquendi... Se vi eserci e vi eserci, io mi Начio torrenti. Tu.ンポicket che sanno state al tonterrello Amsterdam... ai,ai, meio... questo schipicante sa su giarretto su giarretto di buonità il suo letto certo di Aici e si vorrianta ascolta naturalmente qui siamo anche a Sassari certamente quindi devi spiegare che cos'è questo spettacolo allora questo è uno spettacolo praticamente all'interno di questo festival organizzato da RTS radio televisione Sarda Paolo Carboni presentato da Elio Artemalle finanziato un po' anche dal comune di Caglia il teatro dall'armadio il lucido sottile e il teatro impossibile raccontano in maniera diversa le periferie colonizzando luoghi che periferici non sono immaginatevi io che sono di Munimubecciu potrei essere il corrispondente di qualcuno che viene da Latte Dolce e non sicuramente del tennis club no il tennis club del club è Sacrema de Castello è tanto sta gente all'ichiria all'ichiria non come me ma come te eis ma tu sei un all'ichirito di natura perché sei una delle persone che va in qualsiasi posto e sta a starci ah certamente se non mi ci fanno stare ci sto il tuo teatro è un teatro che pesca dalla cagliaritanità ma non soltanto pesca dai popoli ma io guarda il mio teatro è il teatro dall'armadio che è Fabio Marcedo e Antonio Lomurgia a doppia velocità è un teatro che si ispira ai grandi del teatro Shakespeare che adesso lo fanno tutto all'ichirito comunque ci andavano a mangiare e forse trombavano anche in platea mentre facevano il sogno di una notte di mezza estate il problema è sempre questi movimenti da classi egemoni a classi subalterne prima le cose le crea il popolo poi vengono rubate te le restituiscono magari come cosa bella la riprende del popolo e punti ghiaggia sa